Con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature tornano puntualmente gli incendi nella lama balice. Martedì scorso le fiamme si sono levate tra le sterpaglie nei pressi di via Burrone. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, a cui è toccato anche mettere in sicurezza la zona. Intilt dunque il traffico nelle strade adiacenti. Sulla sua pagina Facebook il sindaco Michele Abaticchio ha manifestato tutta la sua rabbia. Ogni anno firmo un'ordinanza per obbligare tutti i proprietari terrieri a tagliare sterpaglie o erba alta presso i terreni di loro competenza, si legge sul suo post. L'anno scorso effettuamo sanzioni per quasi 26 mila euro e ricevetti proteste, contestazioni, rabbia. Poveri proprietari vessati mi dissero. Probabilmente qualcuno sarà tra quelli che si disperano per le sterpaglie bruciate in lama balice. Le sanzioni conseguenti verso i responsabili saranno contestate allo stesso modo, chiede il nostro primo cittadino. La vostra rabbia è la mia, per tutto, e vi assicuro che non ci divertiamo a multare alcuno.